Evitare recite, festeggiamenti e far rispettare nelle scuole le regole anti-covid. I casi sono in aumento, soprattutto tra i bambini. E Michele Emiliano scrive al direttore dell'ufficio scolastico regionale raccomandando massima cautela. Cifre alla mano tocca giocare d'anticipo e minimizzare i rischi. Tutte le fasce d'età sono ormai interessate dall'aumento del contagio. Si legge nella missiva del capo della giunta, ma i valori più alti. Si registrano nelle classi d'età pediatriche a fronte di un tasso regionale di nuovi positivi di 87 casi per 100.000. Si registra un valore pari a 153 per 100.000 tra i piccoli, tra i 3 e i 5 anni. Vuol dire 164 casi per 100.000 abitanti nella fascia 11-13 e addirittura 222 per 100.000 nella fascia tra i 6 e i 10. Due volte e mezzo di più rispetto al resto della popolazione. Soltanto nell'ultima settimana si contano 721 nuovi casi tra i bambini tra i 3 e gli 11 anni. Vuol dire il 21% in tutto di quelli riservati nel periodo. Di cui la richiesta di quello che il governatore definisce un piccolo sacrificio che può però contribuire a preservare la serenità per le festività dei prossimi giorni. Anche i numeri del barese nell'escorsiore vanno esattamente nella stessa direzione. 53 finora le classi per le quali è stato necessario adottare il provvedimento di quarantena nei 311 istituti di ogni ordine e grado che ricadono nel territorio provinciale.